Ben ritrovati con il TG online dell'UNACOMA, l'Unione Nazionale dei Costruttori Macchine Agricole. L'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola, Enama, proporrà a breve una selezione tecnica per la concessione di contributi allo sviluppo di linee di meccanizzazione innovative. Il termine per la presentazione delle domande sarà il 15 maggio 2007 e tutte le informazioni a riguardo sono disponibili sul sito Enama www.enama.it e scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info-enama.it con la specifica innovazione. L'approfondimento nel nostro servizio. L'Enama, in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, avvierà nei prossimi mesi un programma di sperimentazione di mezzi meccanici innovativi per l'agricoltura, per lo sviluppo di nuove soluzioni di meccanizzazione. Nello specifico, le macchine innovative dovranno essere in grado di proporre nuove tecnologie e mai messe sul mercato, in grado di privilegiare i settori della logistica, sistemi di raccolta mirati al contenimento dei costi, raccolta, trasporto, movimentazione, stoccaggio, pretrattamento. I sistemi di lavorazione del terreno, idonei alle condizioni operative presenti nelle isole minori e nei terrazzamenti. Lo sviluppo di macchine per il compost e di macchine per la produzione di biomassa. Il programma prevede la possibile concessione alle ditte selezionate tra quelle che presenteranno progetti contenenti proposte di messa a punto di mezzi meccanici e componenti rispondenti alle esigenze citate di un contributo sulle spese sostenute. I progetti dovranno prevedere la collaborazione tecnico-scientifica del CRA, ex istituto sperimentale della meccanizzazione agricola, del MIPAF anche congiuntamente ad altre istituzioni di ricerca pubbliche, università, CNR, ecc. Le proposte di progetto dovranno pervenire per posta alla sede dell'Enama, via Venafro 5 00159, Roma, entro e non oltre il 15 maggio 2007, alla fine di consentirne l'esame e la selezione da parte di una commissione composta dai rappresentanti del settore agromeccanico nazionale. Il giudizio della suddetta commissione sarà insindacabile. La concessione dei predetti contributi è in ogni caso subordinata alla produzione da parte del soggetto destinatario di donea e regolare certificazione antimafia, la cui assenza o irregolarità comporterà la mancata erogazione o restituzione dei predetti contributi. Ricordiamo ancora che per avere maggiori informazioni sul progetto di sperimentazione è possibile contattare gli uffici Enama al seguente indirizzo di posta elettronica info.chiocciolaenama.it con la specifica innovazione. Cambiamo argomento. L'ampliamento delle città ha storicamente penalizzato gli elementi naturali del paesaggio. Oggi si assiste ad una inversione di tendenza. Lo spazio verde nelle città riveste un'importanza nuova. Parchi e giardini soddisfano esigenze ricreative e sociali, abbellendo il tessuto urbano. A tal proposito è stato organizzato un importante convegno a Torino. Il servizio. Fino a qualche decennio fa l'interesse per il verde urbano era prevalentemente legato in tutto il mondo a valori estetici e naturalistici. A questi si sono aggiunti quelli ecologici e la sempre più diffusa consapevolezza della centralità del verde per gli equilibri biologici dell'habitat che è essenziale per l'integrità psicofisica e per la stessa vita dell'uomo. Il verde urbano esprime un concetto estremamente vasto e comprende un'estesa varietà di casi riconducibili a spazi sia pubblici sia privati. Inoltre in ogni città il verde pubblico comprende episodi che vanno dai grandi parchi progettati in epoche diverse ai numerosi giardini di più recente realizzazione, alle alberate, ai parchi, al verde presente in complessi come scuole, ospedali, cimiteri ed altri ancora. Con l'intento di apportare un contributo utile e interessante su tali tematiche è stato organizzato un convegno internazionale dal titolo Tecniche innovative di manutenzione del verde storico e contemporaneo che vede la partecipazione di studiosi italiani e stranieri. Il convegno, programmato nei giorni 13 e 14 aprile a Torino presso la Legione Piemonte in corso Stati Uniti 23, è concepito anche grazie alla proficua collaborazione che si è instaurata tra Lunacoma e il Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio dell'Università degli Studi di Torino. Grazie proprio alla collaborazione con Lunacoma abbiamo potuto organizzare un convegno internazionale di due giorni che riguarda le tecniche innovative della manutenzione e della gestione del verde urbano. Quindi questa mattina, nel primo giorno, sentiamo delle relazioni di carattere generale, nel senso di tipologie di verde, macchine utilizzate per il verde e poi vediamo delle situazioni proprio europee importanti come la Gran Bretagna e la Spagna, cioè l'esempio di Barcellona e l'esempio del Giappone. Domani invece avremo la fortuna di percorrere le nuove realizzazioni dal punto di vista olimpico di Torino e puoi vedere soprattutto quella che è una novità sicuramente è il restauro di Venaria Reale. Venaria Reale è famosissima, questa reggia a cui si sono ispirati anche i francesi e quindi vedremo il restauro che non è ancora ultimato ma che verrà inaugurato a settembre, quindi moltissimo lavoro si vede già nel giardino. Lunacoma inoltre supporta il Master in progettazione del paesaggio e delle aree verdi della Facoltà di Agraria di Torino. Ha di recente assegnato infatti cinque borse di studio ai partecipanti meritevoli e conferirà tre premi ai migliori progetti svolti nell'ambito del Master stesso. Questi progetti riguardano la riqualificazione di alcune aree verdi di pertinenza della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Europa, Biella, e saranno esposti l'8 settembre prossimo a Bologna nell'ambito della manifestazione Expo Green. Si è conclusa il 16 febbraio scorso la missione ufficiale in India promossa dal governo italiano e da Confindustria. Guidata dal presidente del Consiglio Romano Prodi, la missione ha visto anche la partecipazione del presidente della Confindustria, Luca Di Montezemolo, dei rappresentanti di 40 associazioni industriali e di oltre 400 imprenditori dei vari comparti. L'Associazione Italiana delle Industrie di Macchine per l'Agricoltura, il Giardinaggio e il Movimento Terra, Una Coma, era rappresentata dal presidente Massimo Goldoni, dal vicepresidente Carlo Tonutti e dal segretario generale Marco Pezzini. Lo scopo della missione in India consisteva nello stabilire contatti con istituzioni e imprese indiane per sviluppare rapporti commerciali di cooperazione industriale con la fondata prospettiva di portare l'interscambio globale fra i due paesi entro il 2010 dagli attuali 4,4 miliardi di euro a oltre 10 miliardi ed incrementare gli investimenti di 4 volte passando dagli attuali 50 a 200 milioni di euro. Per quanto riguarda in particolare i settori rappresentati da Una Coma, le prospettive di cooperazione sono molto interessanti, in considerazione del fatto che la modernizzazione dell'agricoltura, che ha un ruolo prioritario nell'economia del paese, richiede un forte sviluppo della meccanizzazione e che enormi investimenti sono previsti anche nell'edilizia e nelle opere infrastrutturali, con dirette ricadute sulla meccanizzazione per i cantieri. Oltre a rappresentare l'associazione nelle convention ufficiali indiane, la delegazione Una Coma ha realizzato numerosi incontri con aziende, enti e operatori economici, con l'intento di avviare la realizzazione di un database contenente i riferimenti di tutti quei soggetti imprenditoriali che possono essere validi partner per le imprese italiane. Le nostre tecnologie, ha dichiarato il Presidente Una Coma Massimo Goldoni, sono infatti indispensabili per il futuro di questo paese, che punta alla modernizzazione dell'agricoltura e allo sviluppo delle infrastrutture e delle costruzioni e che quindi ha bisogno di una meccanizzazione avanzata. Inoltre il mercato indiano si presenta molto articolato, perché il tessuto produttivo agricolo è composto da aziende di grandi, medie e piccole dimensioni, che esprimono fabbisoni di meccanizzazione molto diversi. Questi viaggi poi sono sempre anche un'occasione per sviluppare ulteriormente i rapporti istituzionali. È positivo il fatto che il Presidente Prodi conosca bene il settore della meccanizzazione per l'agricoltura e il movimento terra, anche per il fatto che proprio a Bologna si svolge la rassegna della meccanizzazione agricola Eima International, promossa dalla nostra associazione che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore. In chiusura di TG ricordiamo i nostri associati che le aziende italiane partecipanti alla collettiva Una Coma, previste in occasione della Fiera Agritecnica di Hannover dal 13 al 17 novembre 2007, saranno ben 32. Gli spazi che l'ente fieristico tedesco ha destinato alla collettiva saranno disposti all'interno di tre padiglioni multisettoriali e più precisamente i padiglioni numero 3, 12 e 13 per un totale di 2300 metri quadri. In ogni padiglione sarà poi allestito uno stand Una Coma. Nel ringraziarvi per l'attenzione vi diamo appuntamento con il TG online dell'Una Coma. Alla prossima edizione. Arrivederci.